Altre presunte responsabilità per i vertici di ferro tramviaria la società concessionaria della linea Bari Nord in merito all'incidente del luglio del 2016 in cui persero la vita tra Andria e Corato 23 persone. Negli ultimi 5 anni oltre 97 milioni di contributi pubblici sarebbero stati distratti rispetto agli obiettivi di sicurezza per i quali erano stati erogati in favore della società e uno degli aspetti su cui si concentra la nuova indagine della Guardia di Finanza di Bari incaricata dalla magistratura tranese di eseguire accertamenti ulteriori rispetto a quelli del disastro ferroviario. Il reato ipotizzato dai finanzieri è malversazione a danno dello Stato per il quale sono stati formalmente denunciati all'autorità giudiziaria due dirigenti e dilegare rappresentante di ferro tramviaria. Nei giorni scorsi la procura di Trani, lo ricordiamo, ha chiuso le indagini sull'incidente contestando a 18 persone e alla stessa società vari reati legati alle violazioni sulle norme della sicurezza oltre a omicidio e lesioni colpose conseguenti al disastro. Le ulteriori verifiche delegate al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza mirano invece a riscontrare eventuali irregolarità nella gestione degli incentivi e dei contributi finanziari erogati periodicamente dalla Regione Puglia in favore della società, spiega la finanza in una nota, ed espressamente destinati alla manutenzione e all'implementazione dei sistemi di sicurezza lungo la tratta ferroviaria. Da questi accertamenti è emerso che ferro tramviaria ha avuto nel tempo la disponibilità di ingenti risorse finanziarie destinate in parte al raddoppio della linea ferroviaria Bari-Barletta ed in parte all'ammodernamento dei sistemi di sicurezza sulla stessa linea, compresa la tratta dell'incidente. Ma nonostante tali disponibilità finanziarie e la tesi dell'accusa, la tratta è rimasta priva di doni ai sistemi di sicurezza automatizzati che potevano essere realizzati al costo di 600.000 euro, spiegano dalla Guardia di Finanza. In particolare, negli ultimi cinque anni, la società ha ricevuto dalla Regione, come previsto dal contratto di servizio, compensi per circa 180 milioni di euro, il 58% dei quali destinati contrattualmente alla gestione delle infrastrutture e della sicurezza del trasporto, ma a quanto risulta dalle verifiche dei finanzieri baresi non utilizzati per quello scopo.